Sarà attivo a quarto dal 1 marzo al 31 dicembre del 2015 un piano tariffario speciale per il caffè di cui potranno soffrire le persone che hanno superato il settantesimo anno di età. Si tratta infatti di un progetto che rientra in un programma di politiche sociali perché gli anziani quartesi possano soffrire di un vantaggio promozionale. Su poco meno di 40.000 abitanti sono circa 1.800 gli anziani che superano i 70 anni a quarto e che quindi potranno godere dello sconto presso i bar convenzionati dove il caffè per loro avrà il costo di 50 centesimi, un costo pari a circa la metà del prezzo diffuso. Il progetto nasce dalla collaborazione di CISL e la FRP di quarto, le associazioni CIDEC, quarto sì e per quarto. I buoni sconto mensili potranno essere ritirati presso le sedi della CISL di quarto in via Santa Maria 25 o anche chiamandolo 081-876-6065 negli orari di ufficio. Un modo dunque di ritrovarsi è per stare insieme con una tazzina di caffè che possa aumentare il loro benessere per chi ha lavorato e che negli anni di pensione si risparmi dalla fatica. Una lista di bar dal caffè sociale che non faccia sentire a disagio chi ha bisogno di risparmiare. Il caffè del mattino è un culto che lo si preferisca macchiato, stretto, lungo e decaffenato. Il rapporto sociale che ne deriva è lo stesso. Il caffè unisce le persone in un momento di apertura al contatto con l'altro e questa iniziativa sembra appunto favorire questo aspetto della socialità. Etica è un programma di sensibilizzazione sociale perché si favorisca il benessere di questa fascia d'età che sa essere vitale ed indispensabile in una prospettiva di vicinanza sociale che legittimi il mondo della terza età come fortemente relazionato con i valori di umanità, di comunità e di rispetto verso il prossimo. Grazie a tutti.